movida loca television dove i più grandi eventi contano noi ci siamo è quasi scesa la notte su pozzoli e questa sera festeggeremo i primi 18 anni di gialluca perché dove i più grandi eventi contano movida loca television c'è siamo a bordo della motonave miriam della compagnia di navigazione gestur tutti i presupposti per un grande evento per una grande serata ci sono tutti e allora partiamo da pozzuoli alla volta del golfo di napoli con movida loca television sei arrivato pensa un po in una località meravigliosa che si chiama pozzuoli e questa è la barca della tua festa tantissimi auguri gialluca benvenuto l'emozione com'è subito forte forte siamo pronti la tua mamma ha organizzato questa festa qui siamo pronti sì 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 asurda bib AP CR Siamo conosciuti insieme, infanzia, elementari, ci conosciamo alquanto bene, ma stiamo pure facendo le superiore insieme. Un aneddoto di Gianluca che ti ricordi? Qualcosa legato a lui. Qualcosa di magico, qualcosa di speciale, che ti ha fatto ridere. Eravamo a Londra e dovevamo fare pipì, quindi siamo andati dove fanno le fototessere, siamo così là dentro e quindi con la bottiglietta abbiamo fatto quello che si deve fare. Auguri Gianci, continua così, inseguite i sogni e non mollare mai. È una persona speciale, magari a volte non ce lo diciamo, ma è veramente una brava persona, un bravo amico. Ti voglio bene Gianluca. spero che realizzi tutti i suoi sogni. È un bravissimo ragazzo, sta diventando un bellissimo uomo, un bravissimo uomo. E da zia cosa senti di dirgli? Gli auguro il meglio per il suo futuro, tutto ciò che vuole. C'è qualcuno che stasera purtroppo non c'è con noi, ma lo sta guardando sicuramente. Da parte mia, di mia moglie e della sua famiglia, avrà tutto l'appoggio possibile per aiutarlo a crescere e a creare un futuro migliore. Lo sa bene quanto lo voglio bene, quindi non c'è bisogno che lo dico oggi. Ciao! 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 Il traguardo prima o poi raggiungeremo tutti quanti, un fratello che mi ha sempre supportato, mi ha aiutato sempre nei compiti E' un fratello modello? Esatto, ti voglio bene però così Non ti voglio bene grande? No, piccolo Carissimo Gianluca siamo giunti al capolinea di questa grande serata, possiamo dire grande? Esatto, grandissima Cosa ti aspettavi quando ti hanno bendato sin dall'inizio? Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi, era una carta bianca, tutta carta bianca Tutto fuorché la nave? Tutto fuorché la nave Quindi un'idea di mamma geniale? Esatto Per festeggiare il tuo diciottesimo compleanno con tanti amici, parenti, insomma tanta bella gente che ti ha onorato stasera Che serata è stata? Che festa è stata? Un'erata incredibile che ricorderò per sempre Se dobbiamo dare un voto alla serata io ti richiamo uno alla volta e tu mi devi un voto Location, quindi nave? Dieci Musica? Dieci Intrattenimento? Dieci E la comitiva? Undici Quindi tanti presupposti, tanti numeri affinché una serata è riuscita perfettamente A chi senti di dire grazie? A tutti quanti, in particolare a mia mamma per aver organizzato tutto Probabilmente stasera hai detto mancava una persona più importante ma ti guarda da lassù Quindi aprendo il cuore, cosa senti di dire? Che mi manca tanto e che spero mi abbia visto oggi Ti faccio tanti auguri per la vita, so che ti stai immergendo in una strada di studi piuttosto tortuosa Ma sicuramente sarai, darai tanti risultati, quindi dottor Gianluca Speriamo Tanti tanti auguri per tutti Grazie, grazie mille E viva la vita Ciao Movida Locatelevision Dove i più grandi eventi contano Noi ci siamo No